Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le start-up che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marti. Ben tornati a The Future of, cari amici o benvenuti, se è la prima volta che ascoltate questo podcast. Io sono Andrea Ferrante e questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Questa settimana parliamo di scenari nella cura delle malattie neurodegenerative, un campo importantissimo. Questa è una puntata interamente dedicata al tema, vi assicuro anche piuttosto difficile da preparare vista la complessità dell'argomento per un non tecnico, ma sentivo davvero di doverla scrivere e dedicarla a mio padre, visto che una di queste malattie se l'è portato via prima che la scienza facesse i passi giusti per curarlo. È anche l'episodio di chiusura della serie Scenari, perché ripartirò subito dopo con le classiche puntate intitolate News dal futuro, che poi sono l'origine e l'essenza di The Future of, brevi notizie, segnali deboli e magari meno deboli, declinati al futuro e commentati per capire quali sono i fatti e le tecnologie che plasmeranno il nostro modo di vivere di domani. Allora siete pronti per questo super argomento? Allacciate le cinture, reggetevi forte, pronti, partenza, via! Cura delle malattie neurodegenerative Le malattie neurodegenerative sono quelle carogne che conosciamo più o meno tutti con il nome di Alzheimer, Parkinson e SLA, anche se l'elenco è molto più lungo e comprende altri flagelli, magari meno noti, come la malattia di Huntington, di Peek, Cresfield-Jakob, l'atrofia muscolare spinale e molte altre ancora. In generale, le malattie neurodegenerative sono un gruppo di disturbi che colpiscono progressivamente le cellule nervose, portando a una graduale perdita di funzione del sistema nervoso. Nel mondo ci sono circa 55 milioni di malati di Alzheimer e la stima agghiacciante è che tale numero possa raddoppiare ogni 20 anni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2019 si stima che il Parkinson colpisse 8,5 milioni di individui, un numero che a sua volta è raddoppiato negli ultimi 25 anni, più tutte le altre malattie della stessa famiglia. Se esistessero delle cure non saremmo qui a parlarne, ma questo non è l'unico problema. La percezione di un aumento dell'incidenza di malattie come l'Alzheimer, per esempio, negli ultimi decenni, può essere influenzata da diversi fattori, ma in alcuni casi non è nemmeno completamente chiaro se ci sia stata effettivamente un'espansione significativa dell'incidenza della malattia o se sia il risultato di una maggiore consapevolezza, di una migliore diagnostica e un generale invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento è il principale fattore di rischio per lo sviluppo dell'Alzheimer. Con l'aumento della durata della vita media della popolazione c'è una maggiore probabilità che le persone raggiungano l'età in cui il rischio di Alzheimer è più elevato. Nel corso degli anni, inoltre, c'è stata una maggiore consapevolezza e una migliore formazione per i professionisti sanitari riguardo alla diagnosi di questa malattia. Questo potrebbe portare a una maggiore rilevazione e segnalazione di casi che potrebbero essere stati trascurati in passato. Infine, la crescente consapevolezza pubblica sull'Alzheimer e su altre malattie neurodegenerative potrebbe aver portato più persone a cercare aiuto medico per i sintomi, contribuendo così a una diagnosi più precoce. Per fortuna, anche se probabilmente non abbiamo ancora scoperchiato per intero il vaso di Pandora, la ricerca e migliaia di professionisti stanno lavorando attorno a queste malattie, anche oggi. Malattie che hanno un costo di sofferenze per i pazienti ed anche per la società in generale costi non trascurabili. Pensate che negli USA, dove i dati sono facilmente accessibili, tra i costi medici diretti e i costi indiretti, come l'onere dei caregiver e il reddito da disabilità, le due principali malattie, Alzheimer e Parkinson, costano ogni anno rispettivamente circa 305 e 52 miliardi di dollari. L'Unione Europea si aspetta a breve un impatto di uguale magnitudine. Purtroppo non esistono statistiche su scala globale che ci dicano esattamente quanti scienziati, ricercatori e medici siano impegnati a combattere queste malattie e non esiste nemmeno un numero facile da potervi dire che sia rappresentativo degli investimenti in ricerca nel mondo, anche se il consenso comune è che le risorse a disposizione di queste ricerche siano inferiori a quelle dedicate al cancro o alle malattie cardiache. Ovviamente non siamo qui a fare una classifica che avrebbe poco senso, perché tanti o pochi che siano i fondi, i ricercatori anche in questo campo sono straordinari e i progressi lenti ma non banali. È recente per esempio la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Nature della conferma definitiva che gli anticorpi monoclonali sono in grado di rimuovere efficacemente la sostanza tossica chiamata beta-amiloide dai cervelli di pazienti con l'Alzheimer. La beta-amiloide è una sostanza chiave nel insorgere della malattia, ma tuttora per esempio non è chiaro se rimuoverla potrà far guarire dalla malattia o almeno rallentarne l'evoluzione. Le sperimentazioni sono ancora in corso. Nel novembre del 2022 le aziende biotecnologiche EISAI e Biogen hanno presentato risultati positivi dalla sperimentazione clinica del loro farmaco per l'Alzheimer. Si chiama Leca Nemab. Per la prima volta un farmaco ha dimostrato di avere successo nel rallentare il progresso della malattia, almeno questo. Nel 2023 E.L.I.L.I. ha riportato risultati positivi dalla sperimentazione clinica del suo prodotto. L'Unione Europea ha stimolato l'aumento di ricerche e pubblicazioni con l'obiettivo di raddoppiarle già nel 2025. Scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per mettere in comune database di dati per ampliare l'efficacia degli studi. I budget governativi americani ed europei superano i miliardi, al plurale, nelle rispettive valute. Fondazioni filantropiche e organizzazioni no profit continuano a giocare un ruolo cruciale nel finanziare la ricerca. Insomma, la ricerca non molla ed è ormai una rete globale quella che lavora su queste problematiche. Cosa possiamo aspettarci allora per il futuro? Mi spiace dirvi che non ho contemplato uno scenario dove le malattie neurodegenerative vengono sconfitte. Se l'orizzonte temporale è quello dei 10-15 anni, vista la lunga durata dei trials clinici sugli umani, debellare queste malattie in tale tempo significherebbe avere probabilmente già oggi una soluzione e doverla solo implementare. Ma non è così. E anche se arrivasse rapidamente, bisognerebbe pur sempre capire se i costi saranno alla portata dei malati. Non tutto il mondo è un welfare state come il nostro. Le fasce più povere della popolazione potrebbero non arrivare nemmeno a potersi permettere le cure. Infine, anche se raccolgo per semplicità queste malattie sotto il cappello di malattie neurodegenerative, nella realtà ognuna è piuttosto diversa dalle altre e la scoperta di una eventuale cura per una quasi sicuramente non sarebbe replicabile sulle altre, anche se favorirebbe una accelerazione nella ricerca. Questo comunque non vuol dire che non si possano immaginare scenari incoraggianti. Vediamoli. Il primo ha un titolo emblematico, rivoluzione genetica, ma non deve trarre in inganno. Le malattie neurodegenerative possono avere un'origine genetica, ma non tutte sono strettamente ereditarie. Alcuni tipi di malattie neurodegenerative sono causate da mutazioni genetiche specifiche, mentre altre possono derivare da una combinazione complessa di fattori genetici e ambientali. Per esempio, Alzheimer e Parkinson solo in rari casi vengono attribuiti a fattori genetici. Nella maggior parte dei casi vedono un coinvolgimento di fattori ambientali e di stile di vita. Per la SLA, circa il 10% dei casi ha una componente genetica ereditaria. La malattia di Huntington è causata da un problema ad uno specifico gene. La malattia si trasmette seguendo un modello secondo cui se uno dei genitori ha una copia difettosa del gene c'è un rischio del 50% che il figlio erediti la mutazione. Se il gene difettoso viene ereditato la persona svilupperà la malattia di Huntington in età adulta. Nello scenario previsto nel 2035 la ricerca sulla terapia genica ha raggiunto livelli sorprendenti consentendo la correzione dei difetti genetici responsabili delle malattie neurodegenerative. Trattamenti personalizzati basati sulla genetica individuale diventano la norma. Ovviamente, come detto, curano le malattie solo se hanno origine genetica che comunque non è poco. Ma come funziona in concreto? La terapia genica consiste nella modifica di geni di una persona per trattare o curare una malattia. Viene effettuata attraverso diversi meccanismi quali la sostituzione del gene malato con uno sano, l'inattivazione del gene che causa la malattia o l'introduzione di un gene modificato nell'organismo. Per le malattie neurodegenerative in cui la maggior parte dei farmaci convenzionali non ha funzionato, la terapia genica è un'area promettente da studiare. Una delle sfide più importanti nell'applicazione clinica di queste terapie è trovare farmaci sicuri e in grado di attraversare la barriera emato-encefalica. Negli ultimi decenni sono stati condotti molti studi su diversi tipi di terapia genica e la maggior parte di essi si è concentrata su malattie genetiche come l'atrofia muscolare spinale, la demenza frontotemporale e la malattia di Huntington. Attualmente la ricerca si sta concentrando sull'identificazione di nuovi vettori virali. Si tratta di virus modificati in grado da non causare più le malattie che vengono utilizzati come veicoli per portare i geni terapeutici nelle cellule umane. Anche le strategie transgeniche sono oggetto di studio. Queste si basano sulla progettazione di acidi nucleici che sono parte del materiale genetico in modo che interagiscano con i geni che causano la malattia. Si sta anche studiando la migliore via di somministrazione per questi farmaci ad esempio per via endovenosa, intrauterina o intramuscolare. La terapia genica ha aperto la strada a un approccio altamente personalizzato per trattare le malattie. I progressi della tecnologia di sequenziamento del DNA hanno permesso di identificare molti geni e delle mutazioni che aumentano il rischio di sviluppare queste malattie. L'ipotesi è che nell'arco di 10-15 anni attraverso la correzione o la modulazione genetica i ricercatori saranno in grado di intervenire direttamente sulle cause genetiche sottostanti queste malattie. La progettazione di terapie su misura in base al profilo genetico di ciascun paziente avrà portato a risultati promettenti e miglioramenti significativi nella qualità della vita. Il secondo scenario non guarda specificamente alla genetica ma ad un'altra meraviglia del progresso tecnologico ed è definito era nanotecnologica. Nel 2035 l'utilizzo avanzato della nanotecnologia consente la somministrazione mirata di farmaci e dispositivi al cervello migliorando l'efficacia e riducendo gli effetti collaterali. Le nanoparticelle saranno in grado di attraversare la barriera emato-encefalica offrendo nuove prospettive nella gestione di queste malattie. Nanoparticelle e dispositivi nanotecnologici sono progettati per consegnare farmaci direttamente alle regioni colpite nel cervello migliorando la precisione e la selettività del trattamento. Questo approccio riduce gli effetti collaterali consentendo dosi più efficaci senza danneggiare i tessuti circostanti. La nanotecnologia sta già rivoluzionando la somministrazione dei farmaci e aprirà nuove possibilità nella gestione delle malattie neurodegenerative. A che punto siamo oggi? Le nanotecnologie utilizzano materiali e dispositivi ingegnerizzati che funzionano con i sistemi biologici a livello molecolare e potrebbero trasformare la gestione delle malattie provocando reagendo e mescolandosi con i siti bersaglio per stimolare le risposte fisiologiche riducendo al minimo gli effetti collaterali. Ma il nostro cervello appunto dispone di solide barriere protettive che proteggono il cervello dagli agenti nocivi e il trasporto di farmaci attraverso tali barriere rappresenta una sfida importante per la diagnosi l'individuazione e il trattamento delle malattie. Si stanno sperimentando diverse soluzioni nanoparticelle nano vettori lipidici trasporto di particelle oltre alla barriera grazie al magnetismo grazie a ultrasuoni e anche nanobolle per indebolire provvisoriamente la barriera fino all'avvenuto passaggio delle cure e così via. In questo scenario nello spazio di 10-15 anni queste strategie avranno avuto successo e potremmo accedere al cervello per trasportare in modo mirato le sostanze giuste ammesso e non concesso che scopriremo esattamente quali sono le sostanze giuste e qui entra in gioco il terzo scenario che potrà essere abilitatore complemento e potenziatore dei precedenti l'ho intitolato la svolta dell'intelligenza artificiale dopo il 2035 i progressi nell'intelligenza artificiale e nell'analisi dei big data medici permettono una diagnosi precoce e una gestione personalizzata delle malattie neurodegenerative algoritmi avanzati predicono la progressione della malattia e guidano la scelta dei trattamenti la I è diventata un elemento chiave nella gestione di queste malattie utilizzando algoritmi avanzati per analizzare grandi set di dati clinici genetici e di neuroimaging la diagnosi precoce è ora possibile attraverso modelli predittivi consentendo l'inizio tempestivo di terapie personalizzate gli algoritmi evoluti sono in grado di adattare continuamente i trattamenti in base alla risposta del paziente e alle variazioni nel decorso della malattia le iniziative in questo senso non mancano Altoida è una start-up svizzera che utilizza la I e la realtà aumentata per la diagnosi precoce di malattie neurodegenerative attraverso la valutazione di dati comportamentali e neurocognitivi Altoida mira a individuare segni precoci di declino cognitivo il Barrow Neurological Institute è un centro di ricerca che collabora con IBM Watson Health per sviluppare strumenti basati sulla I per l'analisi delle immagini cerebrali questi strumenti aiutano nella diagnosi precoce e nel monitoraggio delle malattie neurodegenerative a livello più alto lo European Medical Information Framework è un'iniziativa che coinvolge università aziende farmaceutiche e organizzazioni sanitarie mirata a creare un ambiente favorevole alla ricerca in questo caso sull'Alzheimer ma anche altre malattie neurodegenerative l'uso della I è parte integrante del processo di analisi dei dati e della ricerca gli esempi potrebbero continuare a lungo ma se il terreno è già fertile oggi non c'è ragione di pensare che in futuro questo scenario non potrà vedere ulteriori progressi l'ultimo scenario va sotto il nome di terapie neuroprotettive innovative dopo il 2035 la ricerca ha portato allo sviluppo di terapie neuroprotettive innovative che non solo trattano i sintomi ma rallentano attivamente il processo di degenerazione neuronale farmaci e interventi mirano a preservare la salute delle cellule nervose e a promuovere anche la loro rigenerazione in un certo senso con questo scenario siamo più cauti le terapie neuroprotettive si concentrano sulla prevenzione della degenerazione neuronale attraverso l'identificazione e l'indirizzamento di processi chiave che contribuiscono a tali malattie farmaci e interventi specifici mirano a preservare la funzione cellulare e a stimolare la rigenerazione neuronale questo approccio non solo gestisce i sintomi siamo chiari affronta direttamente anche le cause sottostanti delle malattie aprendo a nuove possibilità per la cura neuroim therapeutics è una start-up statunitense che si concentra sullo sviluppo di terapie innovative per le malattie neurodegenerative in particolare l'alzheimer il loro dispositivo NE310 utilizza onde elettromagnetiche per stimolare la rigenerazione neuronale e rallentare la progressione della malattia cognitotherapeutics altro player promettente è anch'essa una start-up che ha sviluppato una piattaforma terapeutica basata sulla stimolazione del nervo vago per trattare disturbi neurologici comprese le malattie neurodegenerative la stimolazione di questo nervo è pensata per influenzare positivamente la funzione cerebrale e rallentare la degenerazione neuronale lo European Prevention of Alzheimer Demensia Consortium è appunto un consorzio europeo di ricerca che riunisce centri accademici industrie farmaceutiche e organizzazioni sanitarie abbreviato in EPAD questa organizzazione mira a sviluppare nuove terapie inclusi approcci neuroprotettivi per prevenire l'insorgenza dell'Alzheimer e così via riassumendo combattere le malattie neurodegenerative è una battaglia che procede in diverse direzioni in questo episodio vi ho presentato quattro scenari rivoluzione genetica era nanotecnologica svolta dell'intelligenza artificiale terapie neuroprotettive innovative al momento non esiste una tecnologia specifica che possa essere considerata una cura definitiva per Alzheimer Parkinson e le altre tuttavia molte tecnologie emergenti e approcci innovativi stanno contribuendo alla ricerca e allo sviluppo di trattamenti più efficaci e personalizzati la ricerca può fare molto ma serve anche altro investimenti collaborazione tra ricercatori sostenere la medicina personalizzata incentivare sempre la prevenzione garantire un equo e tempestivo accesso ai trattamenti sensibilizzare il pubblico implementare regolamentazioni leggi efficaci supportare le famiglie non dobbiamo restarcene seduti ad attendere che una soluzione tecnica diventi vincente ci sono molte cose che ciascuno di noi può fare nel mentre ed every little helps per i malati e i caregivers ma non temete prima o poi la guerra sarà vinta grazie di aver ascoltato The Future of anche questa settimana la serie Scenari è finita è stata una galoppata frenetica che ha toccato tanti temi la musica l'intelligenza artificiale il quantum computing l'invecchiamento il cambiamento climatico e molti altri con un approccio un po' colto e serioso sento la necessità di tornare ad argomenti un po' più leggeri che comunque vi prometto non faranno mancare gli spunti di riflessione vi auguro gioia infinita tanta curiosità e ci sentiamo presto con le prossime news dal futuro